Mi sono arrivate delle informazioni riguardo al fatto che... Allora, dalle più parti si dice pota. Quello è fidanzato, che ride. Perché tu sei di Bergamo, giusto? Di dove, precisamente? Di Casnigo, un piccolo paesino nella Vagandina. Nella Vagandina. Quindi tu canti con l'eco, di solito, delle bozzazze. Non sto scherzando, ovviamente. Senti, allora, tu sei qui per esibirti con le canzoni che hai scelto nella lista di canzoni, ovviamente, che possiamo ascoltare anche su RDS. Ce n'è una... Allora, vabbè, ce ne sono un paio, direi. No, tutte quasi. Però un paio, direi, di due artiste... Cioè, pazzesche, con una voce incredibile. Perché sono curioso di sentire come ti esibirai tu in queste canzoni. Vi dico solo due nomi. Tina Turner e Mina. Cioè, vi è chiaro? Allora, prima di tutto faccio una cosa... Salta davanti. Ok. Così abbiamo sistemato il problema cavi. Allora, io vi invito a far sentire il vostro calore per questa ragazza che è arrivata dalle valli per venirsi a esibire l'RDS Music Marathon. Vero, l'applauso va per i runner, ma va soprattutto per loro che sono su questo palco, che si esibiscono per voi quest'oggi, per l'RDS Music Marathon. L'applauso per Elena Cantaneo. Vai, Elena! Vero, l'applauso per noi! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti